A Giulianova da oltre due anni la struttura in viale dei Pioppi e il campo da boccia decente sono in stato di abbandono. Durante le ultime assemblee con i residenti del quartiere è emerso che questo luogo è diventato un punto di riferimento per lo spaccio di droga e la microcriminalità. Una problematica su cui il consigliere Daniele Di Massimo Antonio ha lanciato l'allarme durante l'ultimo consiglio comunale, presentando un'interpellanza su due proposte di iniziativa popolare, tra cui quella dell'Associazione Demos per la riqualificazione del quartiere annunziata. È stata portata in consiglio comunale dal gruppo consigliare Nosnoi Cultura Politica attraverso un'interpellanza. L'interpellanza faceva capo ad una proposta di iniziativa popolare portata avanti dall'Associazione Demos completamente ignorata dall'amministrazione. Ed è rimasto identico, pressoché identico, la gire, l'azione di governo di questa amministrazione, che riserva un'assoluta ed esclusiva attenzione a una o due aree di città e lascia nel degrado, come detto, le aree considerate periferiche, come appunto il quartiere annunziata. In questo caso ci troviamo nell'embo orientale del parco dell'annunziata. E questo è solo un esempio. Non so, c'è il campo da bocce qui lasciato completamente all'abbandono. Questo era, mi ricordo quando ero ragazzo, un'area di incontro, di convivialità. Ora è diventata sede della micro-macro-criminalità, dello spaccio di sostanze stupefacenti, droghe pesanti, cocaina, eroina. Sappiamo che Pescara è uno dei centri maggiori d'Italia e Giulianova è una delle tappe di questo mercato terribile, che porta alla morte i nostri ragazzi e non solo. Va specificato che la zona peppe di Giulianova, nel quartiere annunziata, è la più popolosa della città, con un'alta densità abitativa. È il più popoloso e dunque i problemi sono maggiori, come è normale che sia. Eppure, quando abbiamo portato questa interpellanza nel Consiglio Comunale, ci è stato detto dall'assessore Di Carlo che in questo momento la riqualificazione di queste aree non è prioritaria. Ebbene, noi consideriamo che soprattutto in questo momento è prioritaria la riqualificazione di queste aree, perché soprattutto in questi mesi, in questi mesi caldi, le persone più anziane, le fasce più deboli, che non possono permettersi la villeggiatura, hanno bisogno, hanno bisogno di incontrarsi, hanno bisogno di spazi adeguati. Considerate che qui vicino ci sono le palazzine di via Bordolini che vivono una situazione drammatica. Ecco, la situazione di questo tratto, di questo brandello del quartiere annunziata è drammatica, nel vero senso della parola.